Una vita dedicata ad aiutare gli altri, ad ascoltarli, dopo aver affrontato un dolore troppo grande anche solo da immaginare. Stefania Casavecchia, dopo aver perso per suicidio il figlio adolescente Luigi, ha deciso di diventare un simbolo, un esempio ed un'ancora di salvezza per gli altri, fondando l'associazione AMA, il primo gruppo di auto mutuo aiuto in Italia per il lutto da suicidio. Dopo la morte di mio figlio ho avuto un dono bellissimo, un libro del dottor Antonio Loperfido che si chiamava La metamorfosi della sofferenza. Da lì ho iniziato a comprendere come il dolore bisognava affrontarlo. Ho deciso di aprire questa associazione di gruppi di auto mutuo aiuto sul lutto per il suicidio, che credo sia stata la prima in Italia. Almeno una richiesta di aiuto al giorno, da tutta Italia ma anche dal resto d'Europa. Sono questi i numeri dell'associazione che da più di 15 anni, senza fermarsi, prova ad ascoltare chiunque chiede aiuto. Queste persone nel momento in cui hanno un lutto per il suicidio, cercano persone come loro, che hanno subito un lutto come loro e quindi vogliono essere ascoltate. Perché quando ti muore una persona per malattia, per incidente stradale, un po' te ne fai una ragione. Ma quando muore un proprio caro per il suicidio, ti si scatenano un'infinità di emozioni. La rabbia che provi verso te stessa per non aver capito questa persona. La rabbia verso la persona che pensi che ti abbia abbandonato. I sensi di colpa, lo stigma e il tabù che ancora, tuttora, ruota al tono alla parola suicidio. Convegni ed incontri in tutta Italia, pochi in provincia di Frosinone. Fin quando non è esplosa l'emergenza suicidi degli ultimi mesi. Finché non c'è stata questa emergenza nella nostra ciociaria, nel nostro territorio, non c'è sentita la necessità di doverne parlare. Adesso, sfortunatamente, ci sono stati questi decessi, questi suicidi veramente inspiegabili e quindi sul territorio si è iniziato a parlarne. Il messaggio che vogliamo mandare è che dobbiamo parlarne, dobbiamo iniziare a parlarne del suicidio, della prevenzione e create una rete. Nella maggior parte dei casi, chi ha un'idea suicidaria non la esprime. Quindi non c'è una formula per provare a comprendere, ma laddove ci sono segnali, è l'ascolto l'arma più potente. Bisogna ascoltare, non passarci sopra, non minimizzare quello che ci stanno dicendo, ma farli sentire amati. Dopodiché non escludo anche il consiglio di rivolgersi a professionisti, rivolgersi alle associazioni atte a questo scopo, non lasciarli soli.